Dopo la clamorosa sconfitta di sabato sera contro il Verona, l'allenatore del Milan Allegri studia un piano d'attacco per affrontare il PSV Eindhoven domani sera a San Siro per il ritorno dei play-off di Champions League, pregustando tra le altre cose il possibile arrivo di Matri dalla Juventus. Sembra infatti che a consacrare il passaggio definitivo del bianconero in casa rossonera sia proprio la partita di domani sera contro il PSV, partita che dovrà avere assolutamente esito positivo. Il Milan infatti potrebbe utilizzare i soldi ricavati dalla qualificazione alla Champions proprio per acchiapparsi i Matri. Ecco quindi che la strigliata di Allegri ai suoi arriva dritta dritta a Milanello e il Sharawi dovrà darsi una raddrizzata se non vuole stare in panchina. In campo invece De Jong e i due ganesi Muntari e Boateng. Le scelte da fare sono ancora tante ma una cosa è certa, zero passi falsi.